ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video su jump o oggi giocheremo a questa modalità dove si dovrà saltare e più volte salteremo più si alzeremo di vita quindi clicchiamo iscrivetevi commentate su like fatemi scarci nei commenti per caratteri video su questa modalità non salto restante salto 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 con il salto perfetto vediamo la ruota vediamo se posso comprare un cattivo compro uno vediamo che mi esce un coniglio raro è un'ựa un'occhio 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 E non che lo stesso che toccare Alla da qui fanno E qui vuoi E qui vuoi E qui vuoi E qui vuoi vai salto salto fino a dove riesco ad arrivare è una beltazza, pronto, stavo entrando, sono un po' più, ma di me, si, qui e 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